Godoglio Godoglio è una città situata nella provincia di Pest, a circa 30 km a nord-est dalla periferia di Budapest. È la sede della Szent Istvan Ergeten, l'università di Santo Stefano, il principale istituto di educazione per l'agricoltura in Ungheria. Simbolo della città è il palazzo reale costruito dalla famiglia aristocratia Grasalkovic. Successivamente il re Francesco Giuseppe, imperatore d'Austria, assieme alla sua moglie Elisabetta Sissi, ne fece la sua residenza estiva. Ci vediamo a Godoglio!